Ciao a tutti, sono Marta Bassino, volevo mandare un caro saluto a tutti voi dell'Associazione Alice Cuneo e in particolar modo per la festa della mamma, mandare un caro augurio a tutte le mamme e alla vostra bella associazione che è come una madre perché si prende cura di tutti voi e insieme lotta per vincere le battaglie. Vi mando un abbraccio, siete fortissimi! Bele mamma, bele mamma Bele mamma, bele mamma Bele mamma, bele mamma Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.